Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Oggi mi vedete particolarmente sorridente perché voglio condividere con voi l'ottima notizia che riguarda Intesa San Paolo. Magari alcuni di voi lo sapranno già, ma Intesa San Paolo ha dichiarato l'acconto del Dividendo 2024. Quindi un acconto sugli utili che verranno conseguiti durante l'annata che si sta concludendo. E molto molto interessante, raddoppia quasi l'acconto del Dividendo che sarà messo in pagamento il 22 novembre con stacco 20 novembre. Quindi ormai ragazzi ci siamo. E devo dire che anch'io mi sono fatto due calcoli e mentre l'anno scorso avevo incassato da Intesa San Paolo a novembre circa 250 euro netti, quest'anno con il Dividendo quasi raddoppiato passiamo a 482,40. Se la calcolatrice non mi trae in inganno. Ma poi fra un mesetto faremo un pochino i calcoli e vediamo un pochino come è andato il mese. Ma 482,40 dovrebbe essere l'importo corretto. Il Dividendo per azione è di 14,40 e si confronta con quanto distribuito l'anno scorso che era pari a 7,38 centesimi. Quindi 14,40 contro i 7,38 dell'anno scorso. Direi un aumento molto molto importante. Perché quest'aumento? Leggiamo un pochino insieme le notizie perché Intesa San Paolo ha visto in occasione dei conti dei primi nove mesi un utile di 6,1 miliardi, in aumento dell'85% rispetto all'anno scorso. E quindi annuncia un acconto pari a 2,6 miliardi di dividendi che verranno distribuiti, prelevati dalle casse e distribuiti a noi azionisti. Un utile praticamente raddoppiato. L'importo corrisponde pertanto a un Dividend Yield calcolato solo sull'acconto del 5,7%. Il CDA, quindi il Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo, ha deliberato un acconto in cash da distribuire pari a circa 2,6 miliardi, l'abbiamo detto distribuzione a novembre, lo stacco il lunedì 20, distribuzione due giorni dopo. Pertanto bisognerà avere in portafoglio Intesa San Paolo almeno in chiusura al 17 di novembre. Poi il 20, Intesa San Paolo, quoterà ex dividend, quindi quoterà 14 centesimi in meno, ovviamente. e noi azionisti ci piglieremo un bel po' di cash pronto da essere eventualmente reinvestiti in qualcos'altro oppure spese per quello che più ci piace, magari chi si vuole pagare l'affitto, chi si vuole pagare le bollette o chi vuole andare a fare un viaggetto o magari una cena fuori. Risultati annuali veramente eccezionali. I 12 mesi verranno poi condivisi, rendi contati con noi tutti a febbraio 2024. Per le eventuali ulteriori distribuzioni, dicono, dal Consiglio di Amministrazione, si valuterà anno per anno. E nei piani di Intesa c'è anche un buyback e questo quindi dovrebbe sostenere ulteriormente il prezzo che nel momento in cui sto facendo il video è a cavallo dei 2,60 euro per azione. Un prezzo decisamente importante, secondo me. Io mi ero caricato l'anno scorso di azioni Intesa San Paolo, ne avevo acquistate parecchie. Quando era sceso attorno a 1,80, 1,75, non ho intenzione al momento di andare a aumentare la mia esposizione verso Intesa San Paolo e l'amministratore delegato Carlo Messina dichiara che ormai sono nella posizione di poter distribuire capitale in eccesso. Quindi sia attraverso distribuzione di dividendi con un payout attorno al 70% degli utili che attraverso buyback. Al dividendo di Intesa San Paolo, poi ne avevo parlato in uno short di pochi giorni fa, si aggiunge anche il dividendo di Mediobanca che verrà distribuito lo stesso giorno. Quindi, questi due colossi bancari italiani mi faranno felice anche quest'anno, nel mese di novembre. Ci dovrebbe essere, vado a memoria, anche l'acconto del dividendo di Equita Sim, 15 centesimi per azione. Vado a memoria, ma dovrebbero essere dati corretti. E poi, chiaramente, la solita infornata di ETF, azioni americane, qualche obbligazione. E direi che anche per novembre dovremmo essere davanti a un mese ricco di cedole e dividendi cash che, per far sfruttare al meglio l'interesse composto, verrà investito in cosa? Non lo so, di occasioni. Secondo me non ce ne sono sempre, ma ce ne sono spesso. A volte sull'obbligazionario, a volte sull'azionario. E andiamo a fare il camp funding reinvestendo sempre in titoli da dividendo per avere flussi di cassa crescenti nel tempo. Direi che per oggi abbiamo finito. Like al video, iscrizione a investire in borsa a caccia di dividendi per non perdervi le prossime notizie, le prossime analisi. Ditemi pure nei commenti se avete intesa e se siete felici di questo acconto del dividendo. Un saluto a tutti da Lorenzo. A presto e ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.